Buongiorno a tutti, ecco la nostra brazzaletta di oggi. Allora, tre vecchiette sfortunatamente muorono in un incidente e si ritrovano nel Paradiso, di fronte alle porte di San Pietro. Allora San Pietro li chiama uno per uno e gli fa una piccola domanda e gli dà l'accesso al Paradiso. O al Purgatorio, uno dei due. Allora la prima arriva e gli dice, buongiorno San Pietro, San Pietricio, buongiorno. Ecco una piccola domanda, lei era sposata? Sì. Lei ha mai tradito suo marito? Guarda San Pietro, io non ho mai tradito mio marito in 40 anni di matrimonio. Va bene, ecco le chiave al Paradiso. Ci vediamo nel Paradiso. Arriva la seconda e gli dice, buongiorno San Pietro, buongiorno. Ho detto, guarda, una piccola domanda. Lei era sposata? Sì. Ha mai tradito suo marito? Eh, guarda San Pietro, io veramente, sì l'ho tradito, ma forse due o tre volte, non più di questo. Lui partiva per lavoro, io non ce la facevo più ed è successo così. Eh, guarda, ha detto San Pietro, mi scusa. Ecco, queste sono le chiave al purgatorio, all'inferno, non c'è niente da fare. Allora arriva la terza, gli fa la stessa domanda, lei è stata sposata? E dice, sì. Eh, ha detto, ha mai tradito suo marito? Eh, risponde la donna, guarda, San Pietro, veramente ne ho combinate mille e uno. Eh, ho fatto di tutto, mio marito non sapeva niente, partiva, io facevo tutto che si può immaginare. Sono stata una grande, sono stata una grande colla P, si può capire. Risponde San Pietro, ecco la chiave del mio appartamento, ci vediamo fra un'ora. Buona giornata a tutti.